Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo vi spiego come disinstallare un aggiornamento su Windows Update, un aggiornamento che forse sta allettando il vostro computer dopo aver fatto gli aggiornamenti e quindi è possibile disinstallare direttamente questo aggiornamento sempre sulla disponibilità, quindi verifica disponibilità aggiornamenti. Clicchiamoci sopra, andiamo su Windows Update, vai su cronologia degli aggiornamenti, clicca qua sopra, disinstalla gli aggiornamenti, andiamo qua e qua puoi disinstallare gli aggiornamenti che hai fatto, disinstalla disinstalla, non potrai disinstallare alcuni aggiornamenti, quindi gli aggiornamenti che mi disinstallare per ora sono questi qua. Una volta fatto, quando vai anche a scaricare gli aggiornamenti vanno a finire anche nella cartella del software distribution di Windows, quindi in questo caso possiamo anche eliminare i download che fa gli aggiornamenti. Andiamo su questo pc, disco locale c, scendi fino a giù fino a trovare Windows, scendiamo fino a giù fino a trovare software distribution, eccolo qua. Vai su download e cancelli gli aggiornamenti che hai scaricato oppure le cache di aggiornamenti e cancelliamo tutto. Se avete altri problemi nel disinstallare aggiornamenti su Windows Update, fammelo sapere, scrivi sotto al video, iscriviti e like se questo video ti è stato utilissimo di installare gli aggiornamenti su Windows 10 e Windows 11. La procedura è sempre la stessa. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao